Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Fuma una sigaretta in camera da letto, il mozzicone prende fuoco, il materasso si incendia, spento dai vigili del fuoco Grandi emozioni ieri sera su Fano TV per la cerimonia in ricordo delle vittime del covid alla rocca malatestiana Le aquile delle colonne sul ponte Metauro torneranno a volare al via un progetto di ristrutturazione che prevede anche l'illuminazione dei quattro braceri posti sulla sommità A Marotta è inaugurato un nuovo tratto della ciclovia adriatica, la pista ciclabile lunga più di un chilometro e arriva fino a ponte Sasso di Fano Nel bosco del Beato Sante a Monbaroccio si è tenuta la festa degli alberi che insieme alla lavanda in fiore hanno animato l'ultimo fine settimana appena trascorso Tra poco su Fano TV l'ultima puntata di Primo Cittadino In studio il sindaco di Fano Massimo Serri Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 Vigili del fuoco in azione questa mattina intorno a mezzogiorno per spegnere un incendio divampato all'interno di una villa in via Vittorio Veneto a Fano all'altezza dell'ospedale Santa Croce Ad andare in fiamme è stato un materasso della camera da letto di un 39enne situata al primo piano Dai primi accertamenti è emerso che il rogo è stato innescato dal mozzicone di una sigaretta fumata dall'uomo nella stanza L'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero nelle stanze accanto ma il letto e alcuni superlettili sono andati distrutti Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per regolare il traffico durante le operazioni di spegnimento durate meno di un'ora Ieri sera Fano TV ha trasmesso la cerimonia di commemorazione delle vittime del Covid Una cerimonia che si è tenuta alla Rocca Malatestiana Vediamo in questo servizio i momenti più emozionanti Una grande tempesta che lascia scoperte le sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende i progetti, le nostre abitudini e priorità Un trauma che si può sconfiggere soltanto insieme Le campane a lutto hanno suonato all'unisono ieri sera per dare il via all'evento organizzato alla Rocca Malatestiana il ricordo delle vittime del Covid-19 La memoria grata per riaccendere la speranza è il titolo dell'iniziativa organizzata dal Comune e dalla diocesi di Fano, Fossombrone e Caglipergola per non dimenticare e proseguire insieme nella battaglia contro questo nemico invisibile Musica, poesie e testimonianze si sono alternate di fronte a una platea di 400 persone e migliaia di telespettatori che hanno seguito l'evento in diretta sul canale 17 di Fano TV Toccante è stata la lettera che Alice ha scritto per il nonno Aldo, così come tanti anziani, è stato portato via dal coronavirus senza la vicinanza e l'affetto dei propri cari senza una carezza, senza un abbraccio delle persone amate E spero che il calore delle nostre mani le stesse che non hai potuto stringere quando ne hai avuto bisogno possa ora raggiungerti in qualche modo Grazie Non solo l'attimo ma anche gioia per chi invece ce l'ha fatta come Giuliano Talamelli salito sul palco per raccontare la sua storia le difficoltà, la perdita di 20 kg in 16 giorni la paura di morire e poi la sicurezza di aver sconfitto il coronavirus Mi sono trovato a dire non ce la faccio ed ero convinto di non farcela soprattutto anche morire senza andare in chiesa per me era proprio una... era quella la peggior morte che si poteva immaginare E sei qua questa sera? Donatella che l'ho tanto amata e l'ho tanto voluto bene Capalbo ha ripercorso anche la vicenda di Giannina la prima paziente ricoverata e poi quella di Severino pilota di 50 anni con i polmoni distrutti dal virus il team ha provato tutti i protocolli terapeutici e i farmaci sperimentali Marche Nord aveva scommesso su Severino ha dichiarato Capalbo e alla fine siamo riusciti a salvargli la vita Soprattutto un grazie a tutti i professionisti di Marche Nord perché veramente era un qualcosa di sconosciuto e subdolo però l'abbiamo affrontato con ansia sicuramente ma con la rabbia, con la tenacia con la tenacia di combatterlo Questo è il messaggio di speranza la fiducia di rialzarci e di andare avanti e di andare guardare avanti guardare avanti tenendoci per mano come gruppo perché veramente da soli non si va da nessuna parte Insieme alla direttrice era presente il dottor Frausini abbiamo avuto paura ma anche tanta audacia ha ammesso il direttore di medicina interna il nostro impegno è stato enorme così come la frustrazione per aver perso tanti pazienti ma abbiamo trovato la forza necessaria anche grazie alla comunità che si è stretta a noi con messaggi, manifesti e donazioni Ci siamo trovati all'improvviso di fronte a una cosa più grande di noi un qualcosa che non conosceva nessuno ma vi assicuro che non conoscevano neanche quei personaggi che andavano poi in televisione tutte le sere a sentenziare cose che nessuno poteva sapere in tutti quelli che riuscivano a interagire con noi una parola, una carezza, una voce di speranza gliel'abbiamo sempre data e magari anche un sorriso mascherato dalle nostre protezioni Alla serata, presentata da Davide Cecchini hanno partecipato diverse autorità civili, militari e religiose tra queste il prefetto Vittorio Lapolla quattro parlamentari i rappresentanti di provincia e regione i sindaci del territorio e poi la Croce Rossa la protezione civile e la Caritas significative le parole del primo cittadino Massimo Seri fare memoria significa ricordare i nostri morti significa assumere consapevolezza di quel che è accaduto significa riflettere su ciò che non ha funzionato sulle carenze di sistema sugli errori da evitare di ripetere significa allo stesso tempo rammentare il valore di quanto di positivo si è manifestato perché solo insieme senza distinzione tutti possiamo contribuire allo sviluppo illuminato della società Il Covid, ha detto invece il Vescovo Armando Trasarti ha costretto gli italiani a guardare in faccia una morte dura vissuta in solitudine senza il conforto reciproco degli affetti e senza alcun accompagnamento religioso il tema della malattia della vita e della morte tocca e ridefinisce ogni cosa i preti e non solo loro ha aggiunto sua eccellenza non sono stati con le mani in mano sono rimasti sul campo e hanno fatto l'impossibile è stata la loro presenza a parlare e a consolare e lo è tuttora Confesso che in questi giorni mi visita in continuazione quella parola del libro del Siracide in cui si dice soccorri tuo padre nella vecchiaia e anche se perdi il senno non disprezzarlo Viste le tante vittime del Covid del Vescovo poi ha voluto sottolineare l'importanza del sistema sanitario e delle strutture presenti nel territorio entroterra compreso si toccano con mano i costi di quella eccellenza del sistema sanitario che in nome a mio avviso a volte di una scriteriata applicazione del contenimento economico ha sgretolato e distrutto il campo della cura diffusa nel territorio e della prevenzione medica di base questa delusione quanta delusione quanta solitudine quanta amarezza questo è il momento dell'azione della mobilitazione soccorritrice di una benedetta competenza scientifica è il momento della cura reciproca estesa in ogni fibra del nostro corpo comunitario dell'iniziativa politica chiamata a decidere guardando oltre il polverone ma credetemi lo dico con tremore verrà anche il tempo in cui serviranno anche le parole quelle che danno ossigeno alla fiamma del coraggio e alla luce del senso ne avremo bisogno tutti forse ci vorranno ancora ci vorranno ancora tante lacrime per trovare parole giuste per un tempo adatto e per persone concrete oltre a quelli della chiesa cattolica erano presenti rappresentanti della chiesa ortodossa evangelica e delle religioni ebraica islamica e buddista questa rocca non durerà in eterno invece io stasera vorrei parlare di una rocca forte che ci sarà per sempre per ognuno di noi il nostro signore al termine della cerimonia allietata dal fano gospel choir e da un quartetto dell'orchestra sinfonica Rossini è stato completato il bercere la fiamma e la luce delle candele accese in memoria delle vittime del covid e simbolo di speranza e adesso cambiamo argomento nuova vita per le colonne del ponte metauro che si trovano all'entrata della città di Fano siamo nella zona sud grazie al lavoro comune tra Anas e Confcommercio i quattro monumenti verranno ristrutturati e illuminati l'attuale ponte metauro percorso dalla strada statale adriatica e situato sulla foce del fiume risale al dopoguerra quando dopo la parziale distruzione ad opera dei bombardamenti degli alleati nel 1944 venne ricostruito secondo la tipologia di quello precedente alle sue estremità come precisa la valle del metauro punto it si trovano quattro grandi colonne in pietra scampate alla distruzione con aquile e bracciari in bronzo opera del professore Mario Urbani i monumenti riportano anche le iscrizioni che ricordano la storica battaglia del metauro tra i romani e i cartaginesi nel 207 a.C. le prime notizie di un ponte sul metauro risalgono invece al medioevo e sono spesso legate al santuario della Madonna del Ponte che sorge all'estremità verso Fano oggi dopo anni di mancata manutenzione le colonne verranno sistemate grazie al lavoro di Confcommercio Fano che ha avuto un incontro con i vertici regionali di Anas dopo uno scambio di opinioni promesse in merito alla viabilità Galleria del Furlo e Viadotto di Cantiano i cui lavori dovrebbero terminare entro la fine dell'anno l'attenzione si è spostata proprio sul ponte Durante questo incontro è stato importante vedere il loro reale interesse per il ponte del metauro che appunto verranno a mettere in sicurezza che già hanno fatto diciamo una parte dei lavori ma scoprire che sono realmente interessati al ponte del metauro con le colonne poi che lo riguardano potrà essere sicuramente questo è un biglietto da visita importantissimo per la nostra città per l'entrata nella nostra città l'entrata di Fano Eh sì fanesi e turisti che arriveranno da sud potranno percorrere prima la rotatoria con al centro il nome della città e poi ammirare il ponte con le colonne sistemate ripulite e illuminate un lavoro che darà nuova vita e nuova luce al ponte più importante di Fano ad Arilassist ai vertici di Anas è stato il vice presidente di Confcommercio Luciano Cecchini questo ponte a livello storico ne ha viste di tutti i colori dall'ultima guerra ai bombardamenti è stato uno dei ponti più martoriato che c'è perché era la tratta dell'Adriatica e quanto facevano le ritirate i militari questo era un punto strategico sia il ponte stradale sia il ponte della ferrovia se vedete le foto che ha fatto la RAF mentre che bombardava questo ponte è una cosa tremenda sembra una gruviera piena di buchi non avevano i mezzi di adesso e non riuscivano a prenderlo fortunatamente si sono salvate anche le colonne nel bombardamento quello di dire che questo ponte una volta era tutto in legno e abbiamo la famosa casina lì sopra che era del pontiere che controllava la sistemazione del ponte fatti storici ne abbiamo avuti tanti basta dire discorso dei malatesta collegato con la parrocchia della Madonna Ponte eventi importanti questo ponte non è che solo ha avuto queste storie a livello militare ma anche negli anni 70 ha avuto un intervento grossissimo sempre dall'ANAS per il riprestino sotto noi ringraziamo l'ANAS per l'intervento che farà naturalmente ci teniamo tantissimo perché rivedere le colonne con il marmo bianco come era una volta è una cosa eccezionale ma non solo il marmo bianco rivederemo le scritte perché ogni colonna porterà un brano della loro storia della storia della battaglia del Metauro e adesso invece andiamo a Marotta dove è stato inaugurato un nuovo tratto di ciclovia la ciclovia adriatica una pista ciclabile che collega piazza dell'unificazione fino a Ponte Sasso di Fano pronti che scatta l'applauso ufficialmente inaugurata taglio del nastro per un nuovo tratto della ciclovia adriatica sul lungomare di Marotta che andrà ad aggiungersi all'intero progetto della pista ciclabile più lunga d'Italia che permetterà di pedalare dal Veneto alla Puglia passando per le Marche regione capofila del progetto i lavori partiti a metà settembre 2019 poi interrotti a causa del lockdown hanno consentito di realizzare un chilometro e 300 metri di nuova pista ciclabile all'altezza di piazza dell'unificazione fino al confine con Ponte Sasso la pista ha doppio senso di circolazione larga due metri e mezzo ed è realizzata in affiancamento e allo stesso livello del marciapiede sul lato mare noi ci siamo perché siamo convinti dell'intero progetto con il contributo che diamo in termini di regione capofila di una grande opera che da Venezia unisce in bicicletta Bari passando per le Marche e perché se abbiamo creduto finanziariamente abbiamo messo 50 milioni di euro sotto tutte le forme usando i fondi regionali usando i fondi europei usando come in questo caso usando i fondi di coesione e sviluppo cioè abbiamo concentrato le risorse per fare una grande opera al tratto inaugurato se ne aggiungeranno altri come quello di Senigallia attraverso un ponte sul fiume Cesano per la cui realizzazione la regione Marche ha previsto e finanziato un piano triennale dei lavori pubblici al taglio del nastro operato dal sindaco di Mondolfo dopo la benedizione del parroco erano presenti tutti gli altri sindaci del territorio abbiamo iniziato con Marotta Centro adesso abbiamo riqualificato Marotta Nord e poi andremo avanti nei prossimi anni con la parte della zona di Marotta Sud abbiamo in progetto con il comune di Senigallia e con la regione Marche la realizzazione del ponte sul Cesano che collegherà Marotta con Senigallia un'infrastruttura importante che collega due province la provincia di Pesorbino e la provincia di Ancona ma che unisce le persone con il 40% dei consensi il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli è al sedicesimo posto nella governance poll del Sole 24 Ore stilata da noto sondaggi che misura la popolarità di sindaci e governatori Ceriscioli ha perso l'1,1% di popolarità rispetto al giorno dell'elezione nel 2015 sulla classifica appesa all'influenza del Covid spiega il quotidiano economico che mette ai primi posti i governatori del Veneto Zaia del Friuli Venezia Giulia Fedriga stesso sondaggio anche per i sindaci al nono posto c'è il primo cittadino di Ascoli Piceno Marco Fioravanti la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli è al tredicesimo posto in classifica mentre Matteo Ricci di Pesero aumenta i consensi con un più 0,7% e si piazza al ventiduesimo posto seguito da quello di Fermo Genaro infine il sindaco di Macerata Romano Carancini che si trova alla posizione numero 44 è grande successo ieri a Monbaroccio per la festa degli alberi e della lavanda in fiori in occasione dell'evento si sono celebrati anche i 50 anni di volontariato di un componente storico della Proloquo vediamo chi è a Monbaroccio lo scorso weekend appena trascorso si è caratterizzato pur con le dovute restrizioni la festa degli alberi e lavanda in fiore che quest'anno sono unite in un unico programma il Bosco del Beato Sante si è arricchito di mercatini di artigianato prodotti tipici locali visite ai campi di lavanda e al santuario e possibilità di lezioni di educazione ambientale oggi una grande partecipazione per noi un grande orgoglio tante le autorità civili militari e religiose che hanno partecipato alla Santa Messa alle celebrazioni e come ho sempre detto è un motivo di orgoglio i rapporti interistituzionali che si creano con tutte le forze dell'ordine l'evento si è svolto su iniziativa della Proloquo di Monbaroccio del Comune e dell'Azienda Agricola all'Infinito con i patrocini della Regione Marche e della provincia di Pesare Urbino la Regione è sempre vicina alla festa degli alberi perché abbiamo la consapevolezza che l'ambiente sia il futuro sia il domani per le future generazioni ma per la sopravvivenza anche del pianeta la giornata di sabato in particolar modo è stata caratterizzata per la cerimonia di premiazione per i 50 anni di volontariato del Presidente Onorario della Proloquo di Monbaroccio Varis Iacucci 50 anni di volontariato svolto con passione amore e vicinanza al territorio e ai suoi abitanti ringraziamento Varis Iacucci persona ammirevole e stimata da parte dell'amministrazione comunale e della Proloquo di Monbaroccio il Sindaco e il Presidente della Proloquo di questi 50 anni momenti va bene ci sono stati momenti tristi facili difficili sicuramente che la creazione dei musei è stata la cosa più significativa perché ho conosciuto e lavorato a fianco di 10-12 sindaci e purtroppo non tutti con tutti i sindaci è andata bene ci sono state delle guerre poi chi le ha vinte guarda caso le ha vinte Iacucci Varis perché non perché era il più forte ma mi hanno dato ragione perché fare il volontariato è una cosa bellissima Varis è stato definito dal Sindaco emblema del volontariato ed incarna nella sua personalità la storia di Monbaroccio durante la cerimonia gli è stata consegnata la fascia tricolore dalle mani del primo cittadino oggi Varis è l'emblema è l'emblema perché ci riempie di gioia ci riempie di culture ci riempie di iniziative nella sua longevità riesce ad essere giovane con i ragazzi e dare e tramandare la sua cultura la sua esperienza anche ai nostri giovani e prima di salutarci vi ricordo che venerdì 10 luglio a Fano è San Paterniano dunque la festa del patrono e come ogni anno Fano TV trasmetterà in diretta dalla Basilica dedicata al Santo la messa delle 11 e un quarto celebrata dal vescovo Armando Trasarti tra poco invece in diretta sempre qui sul canale 17 c'è Primo Cittadino l'ultima puntata perché poi lo spazio verrà dato alle elezioni e alla campagna elettorale per le elezioni regionali questa sera a chiudere questo ciclo di trasmissioni ci sarà il sindaco di Fano Massimo Seri al quale naturalmente potrete fare le vostre domande grazie per averci seguito il telegiornale finisce qui l'appuntamento con l'informazione in diretta domani mattina alle 7 con la rassegna stampa arrivederci grazie per aver guardato